Dove stiamo andando? Ah ma c'ho tre biglietti per... Salmo le boh! Iclusa birra salda! Foghiamo a direttore! Foghiamo! Aspetto fuori qua! Giusto! E mo me la metto raga! Che cosa la faccio? Boom! Bella raga Rock in Roma! Sono qui con... Edoardo e Lilla! Edoardo e Lilla siete carichi? Carichissimi! Mamma mia bestia, la grandissima! Che vi aspettate? Che ci aspettiamo? Eh beh, Russell Crowe assolutamente! Poi tutti i pezzi nuovi! Il tuo pezzo preferito Russell Crowe quindi? Eppure 90 minuti dai! Anche sì! Ma è il primo concerto di Salmo? Salmo sì! Molto bene! La canzone che aspetto più di tutte è Faraway! Oh! Bella roba eh! Sai chi veglia solo alle mie barre? Primo bravo! Primo qui! Saluti a tutti! Raga, ecco qui qua con... Ludo Vigo! Salmo? Primo concerto di Salmo! Sì, non il primo concerto della mia vita ma... Che t'aspetta? Ma aspetto a divertirmi e spero ci siano... Spero soprattutto che ci sia a Gemini Caxi, sarò sincero sai... E' a vero ma... Sono con... Rebecca, Lucia... E' il primo concerto? Sì! Che vi aspettate? Chissone preferita? Anche le stancche a rozzina, tanta cosa! Eh, quello? Dai! Lunedì! Lunedì! Con l'accendino proprio! Sì! Io mi aspetto molto da Koi! Sì! Sì! Koi! Becco stasera che è già il secondo concerto! Sì, no, è bello che ho deciso di ritornare... Sì! 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 Sono aspettato! Sì! Sono più emozionata di farmi stare da mostro! Eeeeee... Vabbè, è come i David Roll di Drew Hider, quindi... Jamie Dites! Jamie Dites! Grazie! E... Buon concerto! Salute! Facciamo il test! Sì! Ok, ok... これ che nel mondo di estate... aggravando delle state... io ogni giorno... sono il nuovo da queste pajo... non sarei sveglian ad aspettarmi... guardo allo specchio, mi tocco alle palle, pensando che alle vall... Cont� contro! E' lì voleva vogliare e stiamo vogliando Ti dico Ti dicevo Con Giovanni Ti è piaciuto il concetto Tanto E lui sa pianto Ma da 1 a 10 Dopo 7 anni di ascolto Momento migliore è il poco Lei ha pocato Sono qui con Dario Con Dario che gli è piaciuta più la prima parte E non la seconda La prima parte era proprio playlist La seconda era macete mixape Quindi era molto per i chesitori Era la 5 luglio Quindi ci vuole ancora un po' di tempo Sì infatti poi loro si aspettavano Quella gente cantava Ma non mica tutti cantavano Una settimana faccia E' stata una scelta molto rischiosa Questa si fa Era Lazza 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 è entrata e spaccava Buon Alessio Ciao Ale quanto per te C'è tu al 65% precedente a Blu Lo competiranno nel Salmo Allo 90% Quando aveva la prima parte L'Uruda con gli ok alla Salmo Alla Salmo Però non in sedia a Roma Mi è piaciuto Mi è piaciuto Ale Che devo dire Mi è piaciuta la divisione tra Salmo E poi il concerto Macete Molto rap Un po' underground Un po' aggressivo Molto aggressivo E ti devo dire Lazza e Diany Pai Sono stati i migliori Anche se pure Nitro Con tutti i porti A me è piaciuto tanto Il concerto Voto 9 Ripeto Parti di Macete E se sono divertiti tutti E sarà bomba Grande Salmo